ciao sono amanda cironi il lavoro con trucchi e conciliature di sposa lavoro molti anni con servizio a domicilio o location per le spose e sono molto felice di incontrarci al castello girossino per il nostro open day e parlare delle bellezza delle spose e che cosa puoi avere per il giorno del tuo matrimonio se cerchi un estilo naturale elegante e completa tuo abito venimi a trovare per i due cacchiere vi aspetto grazie a tutti grazie a tutti